E' fratturata Bloccato Se non gli perde tempo farò vedere che è bloccato Merda, non credo di aver preso il rapprettore Brutto segno Mettila di tremare Il manuale dice che è il cavolo Quindi è quello che devi tagliare Taglialo tu, io vado a mettermi dietro a quell'angolo E lo stai facendo sotto? Allora guarda come si comporta un vero uomo Se sei un vero uomo perché ti tremano le mani? Le mani non vogliono dire un cazzo L'importante è che non tremi nient'altro Ok Calma Calma Il cavo rosso Il cavo rosso E dai Non farmi fretta Ma quanto ci metti? Il cavo rosso di cose Sono quasi Paura, eh? Non starmi addosso Lasciami pensare Beh, visto che ci stai mettendo un secolo Vado a farmi una passeggiata E adesso dobbiamo sapere cose in maniera Dai, cavo rosso di che cosa? Beh, ma che avessero a che fare con una bomba La Dizziness Cat Seconda postazione, mi sentite? Verte Otro barco di vento Seconda postazione, mi sentite? Ah, non mi sento Ma questa chiave qua Perché non si accumula Non si fa vedere Un minuto di filtro Due minuti Cioè, da là si apre Oh, parola Si è teletrasportato qua E si è anche chiuso Che scemenza Veramente, questa è una scemenza Cavolo, ne abbiamo preso su così Perchè ci vorrebbe quello dal penultimo Che scemenza Cioè, cavolo, eravamo distantissimi dalla porta Era aperta la porta E' uscito e chiuso Boom Basta Sparare è una cosa Ma non possiamo Sparare viva la gente Come sarebbe a dire La gente Sparare? C'è impazzito? Non sta parlando Dei rifugiati Ma quali rifugiati? Di quelli se ne occupa il dipartimento Sto parlando di ratti veri Con colpa e tutto arretto Si sono vocificati all'infinito Si sono vocificati all'infinito Si spregati Qualcuno? Porta Sì signore Mi ha fatto finire un bel patente Chi va là? Non si chiude Ma Devo essermelo immaginato La carenza di su non gioca brutti scherzi Poi stiamo qui a fare tutta questa scena qua Ma poi tanto Hai ricevuto la tua arma? No compagno comandante Un bel Cosa ho rinforzato La Mad Max C'è solo lui La luce la Alla fine non possiamo trovare strade Veramente alternative Vabbè Da cavolo La gente c'è Ah qui forse No È chiuso Dai vieni fino qua Qua Ti voglio qua Perchè? Che in teoria non ho visto niente Non ho visto un cadavere Niente Sì signore Guarda Qua Faremo qui Eh Buongiorno Abbiamo già rivisto la ricarica, l'ultimo ciappone. Andiamo giù a... No, 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 no. Ma che cosa è successo? Ho fatto due eroi. Proprio per millimetri vado. Mi è piaciuto quel... BAM! Foglietti... Basta! Vabbè, questo comunque si spara molto di più. Non che siano diventati chissà quegli scontri fighi perché alla fine non puoi fare altro che sparare da distante sostanzialmente. Questa è come un bel fuciletto, come quello che avevamo. Questa è un bel fuciletto. 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 E ci credo che fa male. Eh. Questa è un bel fuciletto. Mi sembra di guardare GoldenEye tra un po' su Nintendo 64. C'è veramente il primitivo... Il rotolamento e... E basta. Oh! Facciamo la solita... Pulizia dei corpi... Questo è proprio... Però ormai... Tanto di sicuro il save non si trasferisce nel... In Exodus. Non penso proprio. Però boh... Avremo un finale brutto? Non lo so. Non ho po' idea. Ma sicuramente la storia deve andare avanti. Non mi domando... Non saprei neanche cosa si intende per il finale. Il protagonista è sempre lui e... Monti coreografiche... Quì un bel fucile a cecchino o no? Ma perché cavolo non prende su tutto? Allora, vedi lì? Sì, sembra che l'uscita sia quella là in realtà Questa cos'è? E' un bravo rumore Ma prosegue anche di qua E' uscito il checkpoint Non vorrei che si chiuda le spalle Proviamo prima questo Alla sopra si può andare Però la freccia è indicata di qui, quindi Ma è pazzo Avete visto? E' saletto Ah, di nuovo ho chiuso In questi dieci minuti qua abbiamo visto due tre cose schifose proprio Oh, un bel rumore di vetro, mi piace tutto Quindi era meglio andare là Oh, è la seconda volta che ci precludono la strada, ma è veramente assurdo Oh, un bel rumore di vetro Parca Per il fumo che c'era io Mi sta andando bene Parca Parca fare la paghera ancora non è morto quello c'è un doppiettone sono stramorti ma vuoi andartene o anche i combattimenti o comunque è troppo soldato ciment faccio un'altra chiave che non si usa andiamo ancora coltino io ma che cosa servono queste queste cose non fammela neanche vedere che è chiusa che se ne frega si è chiusa in cima qua tutti i combattimenti si vede che gli hanno detto ah non c'è abbastanza i combattimenti qui tutti i combattimenti che siano belli o interessanti è un altro discorso beh qua si poteva spegnere la luce postati ma cosa sta facendo ma che cosa c'è ma possibile far uscire un remaster ed è ridotta così la remaster questa cosa qua è del fiatone non ho ben chiaro che cos'è perché la maschera è integra il coso ce l'abbiamo l'ossigeno l'interruttore per spegnere il ventilatore appare avanza lentamente per spegnere per attivarlo stavo volendo di stavo volendo di niente lo sostituiamo per quanto sia stato utilissimo in realtà però prima o poi magari più che gli umani ci saranno perché per ora non abbiamo fatto a corpo a corpo ecco ecco poi questa cosa qua adesso c'è il difetto che parte da in cima non dall'ultimo vabbè è una cosa assolutamente certa ora la linea rossi sta preparando la guerra comunque ci sarà un bug anche a Nexolus senza fare pomposi annunci o fomentare l'isterismo collettivo come invece tipico dell'impero stanno pian piano creando l'esercito più forte mai visto nella metro è il silenzio che accompagna questi preparativi di guerra mi sembra ancora più sinistro di tutte le dichiarazioni del Kaiser ok adesso che avevano spento quindi fuggito a territorio della linea rossa fuggito a territorio della linea rossa non è che fosse proprio chiaro no? non è che fosse proprio chiaro no? riparte come al solito perché passiamo a noi tutti i combattimenti adesso qua insomma stavo pensando di dare un voto più alto questa ma adesso mi si sta un po' abbassando poi un po' di coreografia e fare esplodere appunto era meglio tenere quell'altra pistola la uno dei nostri a terra no si è spostato venga vedete insomma invece che uso il doppiettone uno una perdita 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 poi sono troppo in basso poi scendiamo eh scendi possiamo giocare a Wolfenstein che avevo potenziato da metto tanto la pistola che effettivamente bastava inoltre da la due 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 di è sempre poco soddisfacente la maschera non dovrebbe servizi adesso ah no dove il cavolo ha sparato ma che ha sparato col secondario c'è di solito quello per la mira il tasto 313 per fortuna se non spariscono come l'altro non un percorso ambivo no percorso in un giro vabbè proviamo solo meglio a parte adesso l'alarme cos'è la matrioska va quante ne sono cacca non dovevo farlo dovevo potentare a star lì però ci speravo vabbè vabbè per fortuna non dobbiamo di far tutto la parte è rispazzolare comunque sappiamo che escono lì e si aprono le porte prima che arrivi in oro il suo proiettile passa al mio no e un uomo a terra uomo a terra che foro batardo è qui sotto terra è stato colpito sei morto però parlavi mentre cosa matrioska per me si sono anche che l'hanno fatto apposta sono una bella foto però fa un po stato impegnare troviamo se non crescia il gioco a fare questa cosa un altro corridoio come quello di prima il medikit non vuole darseli aspettiamo ci sta situazione bizzarra ci sta ottima partenza e mi stanno facendo male che sono dietro la cassa oh santo c'è adesso cosa facciamo qua ci sparano ancora prima che ci siamo affacciati ah è dietro una torretta pure oh cavolo qua non ci becca sembra com'è che si fa un lancio ultimamente andata certo che potevano sentirsi le urla non so qualcosa in realtà e l'avevo preso anche con le fiamme quindi oh il medikit non sta buttando bene per è bella guarda di fino qua quanto ti ne vuoi i colpi 4 ho tutto beccato in testa perchè sono distante che cadenza di danno c'è ma